La prima sfida tra i due stumble guys sarà quella delle skin, vediamo in tre giri fortunati chi sarà più fortunato appunto Penso abbia già vinto il pc, come ho fatto a trovare la skin speciale al primo giro regà? Ma che cosa mi state dicendo? Ma non è vero Ragazzi ma questa sfida parte super avvantaggiata per il pc che a quanto pare con tre giri epici può trovare una skin speciale e due epiche Ma adesso vediamo cosa andrà a combinare il telefono Stumble guys da smartphone, andiamo a vedere se da telefono troveremo una skin speciale e una leggendaria in tre giri Perché questo ci servirà per battere il computer ragazzi, sono pronto per andare ad aprire i miei giri di ruota Andiamo a selezionare i nostri tre giri epici e signori 3, 2, 1 andiamo ad aprirli Dobbiamo trovare una skin speciale e una leggendaria per battere il pc Ok iniziamo malissimo con la skin epica ti prego, ti prego facci trovare una speciale e una leggendaria abbiamo già perso No in realtà potremmo pareggiare, potremmo pareggiare signori, credo nel potere del... Oddio! Nooo, tre epiche, ma che sfiga ragazzi, il primo round lo vince il pc Passiamo adesso a una sfida molto interessante Iniziamo dal pc e vediamo se riusciamo a vincere una partita Vediamo com'è il gameplay, vediamo se riusciamo a essere forti da pc Lo scopriremo subito, andiamo innanzitutto a cercare di qualificarci ragazzi Perché altrimenti non vinciamo nessuna partita e speriamo bene Ti prego gioco... No! Ok, ok siamo vivi, siamo vivi non so come ma ci stiamo per qualificare Ok ci siamo ragazzi, ci siamo qualificati, dai così Perfetto così, si... No! Che infame! Perfetto così ragazzi, va al prossimo round Andiamo a vedere però adesso a livello di partita se riusciremo a vincere da smartphone Andiamo a fare il primo round e vediamo se ci qualifichiamo signori Ok signori, è uscita una mappa che in realtà so fare abbastanza bene Quindi possiamo essere abbastanza fortunati Devo dire la verità, giocare da smartphone a me piace leggermente di più Perché riesco a muovermi meglio Perché il gioco è un pochino più fluido Quindi mi trovo leggermente meglio Ma comunque andiamo a qualificarci perché non sarà facile Ok ce la stiamo cavando bene signori Ce la stiamo cavando bene per il primo round da smartphone Ok ci spinge avanti questo Andiamo qua, proviamo a fare anche un trick qui giù Se non ci spingesse lui Lui ci spinge quindi vabbè non possiamo fare nulla Però ci andiamo a qualificare addirittura per primi mi sa Ragazzi da smartphone siamo fortissimi Ci andiamo a qualificare per primi e dritti al prossimo round Andiamo a fare il secondo round da PC e vediamo come stiamo messi ragazzi Qui già dovrebbe essere leggermente più difficile Non so quanto ma dovrebbe essere più difficile Io vi giuro da PC ragazzi sono scarso Non so il motivo ma sono più scarso secondo me Sarà che il gioco è un po' più difficile da PC? Non lo so, non lo so Siamo qui in questo video proprio per scoprirlo Cerchiamo di qualificarci ragazzi e vediamo un po' se riusciamo nel nostro obiettivo Ok ce la dovremmo fare Ce la dovremmo fare qualificati per la finale da PC Attenzione perché questa è la stessa mappa che ci è capitato da PC ragazzi Questa è una sfida vera e propria allora oggi Tra questi gio... Eh no 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 da smartphone però stiamo un attimo indietro secondo me Ok abbiamo recuperato e siamo di nuovo primi ragazzi Dritti verso la vittoria dai ti prego Ti prego se vinco impazzisco Se vinco impazzisco te lo giuro gioco Se vinco impazzisco Per adesso però pensiamo a qualificarci Magari per primi sarebbe fantastico No siamo caduti Siamo caduti signori Non riusciamo a qualificarci per primi Però ci qualifichiamo lo stesso alla finale Andiamocela a giocare Perfetto ragazzi siamo in finale da PC Mi raccomando fatemi sapere voi da dove giocate Se giocate da smartphone oppure da PC Comunque andiamo ragazzi a cercare di vincere Io non so minimamente come si faccia questa mappa Ed è proprio per questo che seguiremo gli altri ragazzi No sono caduto Sono stupido Sono stupido Qui si può passare raga Dove si va se passo qui? Non lo so io sperimento Non conosco questa mappa ragazzi Eh ma non penso si possa... Eh vabbè raga abbiamo perso Abbiamo ufficialmente perso da PC ragazzi Mi dispiace per quelli che ti fanno PC Ma mi sa che non riusciamo a vincere la finale Però attenzione perché niente è ancora scritto ragazzi Potremmo salvarci incredibilmente Qua possiamo andare No no ti prego Dai dai ma che sfiga Ma che sfiga signori Che dire da PC non siamo riusciti a vincere purtroppo Vi dico una cosa signori L'uolo pollo del PC ha perso Quindi quello dello smartphone potrebbe addirittura vincere la partita Andiamo a saltare lì giù No non ci siamo riusciti raga Non ci siamo riusciti Peccato Peccato ragazzi Molto peccato Qui proviamo qualche trick Vediamo se riusciamo Vediamo se riusciamo a fare i trick da telefono Signori Signori L'uolo pollo i trick L'uolo pollo i trick Ce l'abbiamo fatta Ma stiamo ancora indietro Siamo ancora indietro Dobbiamo fare la stessa cosa qui da quest'altra parte Dobbiamo fare la stessa cosa La stessa cosa Ce l'abbiamo fatta signori Ce l'abbiamo fatta Ci stiamo andando a prendere la vittoria Ci stiamo andando a prendere la vittoria ragazzi Siamo straprimi Potremmo battere il pc da un momento all'altro signori Dobbiamo fare tutto perfetto Tutto perfetto Ok Oh no 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 ti prego Ti prego Non ci credo Non ci credo signori Vabbè ma io la considero come una vittoria questa però Diciamo che siamo andati più vicini alla vittoria da smartphone che da pc Quindi la vittoria se la giudica lo smartphone signori Dai ci stanno Andiamo però adesso a vedere i giri gratis Faremo un giro gratis sia sul pc sia sul telefono E andiamo a vedere quale dei due giri gratis sarà il più fortunato Regà sono curioso in realtà di scoprire questo perché è veramente interessante Ok non ci è andata malissimo Non ci è andata malissimo 10 gemme per il pc Andiamo a vedere la sfida del giro gratis Che cosa troveremo mai noi da smartphone nel giro gratis Riusciremo a battere le 10 gemme secondo voi Secondo me sì Non ci credo Pareggio Pareggio sui giri fortunati gratis signori Pareggio clamoroso Un'altra sfida che sono curioso di fare è vedere come sono ottimizzati questi giochi Per i dispositivi vediamo per il pc quanto tempo ci mettiamo arrivare dalla prima skin all'ultima Quindi dovremmo scorrere fino alla fine delle skin e vedere quanto ci mettiamo Inizia il timer tra 3 2 1 via via ragazzi via 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 Ok non so quanto ci ho messo avete il timer sullo schermo andiamo a vedere da telefono Andiamo però a batterlo sulle skin ragazzi Facciamo partire il timer tra 3 2 1 e scorriamo fino in fondo Vediamo chi ci mette di meno signori Secondo me ho vinto da smartphone Vedremo vedremo che racconta il timer Vediamo se è più facile partire svantaggiati da pc o da smartphone Rimarremo fermi 10 secondi su entrambi i dispositivi E vediamo quale dei due dispositivi avrà la meglio Possiamo partire e vediamo se riusciamo a qualificarci ragazzi Partendo 10 secondi dopo da pc Sono molto fiducioso cioè spero di sì dai non penso di essere così scarso da non riuscirmi a qualificare ragazzi Procediamo velocemente aspettiamo che questo gira perfetto Mamma mia ragazzi che pro player Signori evitiamo anche il martello che vabbè non lo abbiamo evitato ma ci sta ci può stare Andiamo a saltare qui perfetto così ragazzi No 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 ti prego qualcuno faccia scendere quel coso no Ok ok possiamo andare forse possiamo andare forse No sono caduto Signori vi do la brutta notizia forse non ce la Eh non ce la facciamo per pochissimo cavolo Non ce l'abbiamo fatta per davvero pochissimo da pc a qualificarci dopo 10 secondi Ma andiamo a vedere da smartphone Partendo da una situazione di svantaggio Riusciremo a battere l'hollo pollo del pc che non è riuscito a qualificarci Non ci resta che scoprirlo Aspettiamo 10 secondi ragazzi e si può partire Eh passerà tantissimo tempo Ok signori 3 2 1 E possiamo partire Possiamo finalmente partire Andiamo a vedere se riusciamo a recuperare Questa è una delle mappe più difficili per recuperare Ve lo dico è una delle mappe più difficili dove recuperare le posizioni signori Perché è veramente corta come mappa E difficilmente si sbaglia però noi ci proveremo Noi ci proveremo perché comunque siamo lollo pollo e siamo fortissimi Qui proviamo a fare il trick signori Proviamo a fare il trick che ci riesce Ti prego Ti prego gioco Facci qualificare Fallo per lollo pollo del pc che ha perso Abbiamo perso anche noi signori Beh che dire signori Non ci si può qualificare partendo dopo 10 secondi A quando fare Né da pc né da smartphone Che palle Mi raccomando però non vi resta che lasciare un pollice in su E un bel commento fatemi sapere da dove giocate Se da pc o da smartphone Da lollo pollo del pc e da lollo pollo dello smartphone È tutto Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video Mi raccomando massimo supporto E ciao ciao